Filippo Tortu! Grazie. Grande Pippo! Oh, mi hai fatto emozionare, mi hai fatto emozionare già più di una volta, oltre che quando hai vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi, anche in quella cosa lì metropolitana, più che altro rivedendo adesso il filmato. Io ero tesissimo nel filmato che mi ballava la mano, ero terrorizzato di farmi male. T'ero terrorizzato di farmi male mentre... Posso dirti un po' anch'io? Mentre facevo questa cosa e soprattutto anche il giorno dopo, magari arrivavo un po' più stanco all'allenamento, ho detto se mi faccio male... In che senso? Cioè se tu ti fossi fatto male il giorno dopo allenamento, l'allenatore ti avrebbe detto è perché hai fatto il pirla ieri con Sandrino. Esatto, siccome mi è già capitato di farmi male non in pista ma fuori, una volta sono caduto in piazza di Spagna e mi sono rotto una caviglia. Come hai fatto? Stavo facendo le scale, l'ultimo gradino sono andato giù. Ma mentre camminavi normalmente, come una persona normale? Sì, l'ultimo gradino non l'ho visto, mi è andato giù il piede, caviglia rotta, ho rischiato la stagione e mio padre, che è il mio allenatore, non l'aveva presa benissimo. Benissimo, immagino. Cacchio diceva, almeno camminare, oh Filippo, ti abbiamo insegnato quando avevi due anni e mezzo. In famiglia hanno preso bene, cioè quando ce l'ho fatta, comunque ho chiamato, sai, magari mia nonna, mia mamma, mia zia, che gli ho raccantato un po', quello che abbiamo fatto, mi ha riempito di complimenti, ma neanche quando faccio le gare. Eri, sei arrivato prima della metro, bravo Filippo, bravo. Mi sono sentito, mi sono sentito un po' un pirla, mi alleno tutto l'anno, gare, così poi faccio... Eh, ma è questo che conta. Sai che a me piaceva tantissimo, di questa clip, di questo momento, mi piacevano tantissimo, ecco, queste immagini. L'inquadratura della telecamera che ti abbiamo piazzato sul petto, che è super spettacolare. Sì, io le vorrei... è impossibile da mettere in gara, perché comunque... Ti rallenta. Ti rallenta, ti impedisce, un po' ti appesantisce, però sono delle inquadrature che secondo me, nell'atletica, potrebbero rendere, perché vedi effettivamente cosa prova, poi non qui, però in gara magari puoi vedere cosa prova uno a correre a 40 km per l'alto. È il famoso POV, no? È quella roba lì, c'è un sacco di cose... Grande appassionato. ...da cui possiamo prendere spunto. Dai film birichini, diciamo così. Allora, prima stavi dicendo, se mi fossi fatto male avrei rischiato di mettere a repentaglio, quando sei scivolato dal gradino di Piazza di Spagna hai rischiato di mettere a repentaglio. Questo è un aspetto che io vorrei che tu mi aiutassi un po' a comprendere del tuo lavoro. Fate uno sport per cui l'evento più importante è una volta ogni quattro anni, ti alleni per quattro anni, dai tutto in dieci secondi. Come si gestisce lo stress di arrivare preparato a quei dieci secondi per quattro anni? Quanta ansia ti crea nei momenti precedenti? Perché poi può succedere di tutto, ti puoi ammalare, ti puoi fare male, ti puoi venire a raffreddore, quel giorno magari hai mangiato male. Insomma, come si vive in funzione di dieci secondi su quattro anni? Guarda, c'è un bel dato, io più o meno mi alleno dieci volte alla settimana, per più o meno in un anno 48-49 settimane. Sì. Per più o meno messi assieme 80 secondi di gare durante l'anno, quindi magari 600 ore di allenamento durante l'anno, 500 ore di allenamento durante l'anno per 80 secondi. ed è la cosa che più mi affascina del nostro sport, perché adesso mi sono spostato sui 200 metri, quindi spero meno di 20 secondi, però la gara comunque dura pochissimo e non hai la possibilità di sbagliare nulla. Cioè tu non puoi sbagliare qualcosa durante la gara e poi pensare di recuperare e metterla a posto. No, se sbagli la gara è finita, quindi ti puoi allenare quattro anni per andare all'Olimpiadi, come avevo fatto io, e non riuscire a qualificarsi per la finale, che era il mio obiettivo nei 100 metri, e ti senti un po' tutto crollare addosso. Questa cosa è vero, cioè è uno dei rari sport in cui non puoi permetterti di sbagliare perché ti sarà impossibile recuperare. Cioè in tutti gli altri sport puoi sperare di avere l'occasione di rifare. Carl Lewis, quindi diciamo ciò che dice non si discute. È un po' il Pelé del tuo sport? Sì, secondo me è un po' stato il... Diceva, se sbagli il primo metro ti rimangono gli altri 99 per imprecare. E questo è più o meno... Qual è la parte più difficile? È il primo metro, è la partenza? Beh, per me la parte più difficile è la partenza perché io sono più forte negli ultimi 50 metri, però per altri è il contrario. Ah, ok. Secondo me la parte più difficile è la gestione dell'ansia, come dicevi prima, la gestione dell'ansia, quindi sai, l'ora che precede la gara, la notte che precede la gara, gestire la tensione non è una cosa semplice ed è quello che però più mi piace. Io quando ho la gara che mi esalta, magari con tanto pubblico, piuttosto che una invece in cui non è importante, sento tanto queste differenze e quindi rendo di meno in quella meno importante, diciamo. Cosa pensi in quei 10 secondi lì? Cioè il tuo cervello cosa fa durante quei 10 secondi? Eh, bella domanda. Si spegne? No, si spegne. È spento un trotto l'anno, poi quei 10 secondi lo accendo. Si accende solo lì. No, non pensi. Se pensi rallenti, cioè ti viene tutto in automatico. Tu devi provare talmente tante volte in allenamento le cose che poi una volta che senti lo sparo va tutto... parte e tu sei scollegato della realtà e vai in automatico. Per quel lasso di tempo, sì. Invece una cosa che mi è piaciuta parecchio, al contrario, nella staffetta a Tokyo, la vivi innanzitutto in maniera diversa perché vedi tutta la gara, vedi i tuoi compagni che arrivano, quindi hai l'ansia che sbaglino il cambio, e quindi non ti arrivi il testimone, però poi quando effettivamente arriva quello prima di te, l'ansia è che ti sta arrivando... Hai l'ansia di essere tu quello che sbaglierà il cambio. Esatto, ti sta arrivando Fausto a 40 all'ora addosso. E poi invece qui, quando ho preso il testimone, è come se io avessi vissuto la gara in terza persona ed ero consapevole di tutto quello che accadeva. Cioè ti stavi guardando da fuori. Sì, sì, io mi sono detto se rimango rilassato, se corro come so correre, se tengo le ginocchia alte, le spalle avanti e corro con il sedere alto, sì, con lo stile giusto, vinciamo e recuperiamo gli inglesi e poi per fortuna così è stato. Perché esatto, tu sei partito non primo, poi sei arrivato davanti, mi piace anche tantissimo che poi ti dà la dimensione all'interno di quei 10 secondi che come abbiamo detto e come ci ha spiegato Filippo, sono pochi, si vince per dei millesimi di secondo. A me piace sempre il momento in cui quando arrivate davanti provate a buttare la lingua davanti, il ciuffo di capelli, perché conta quello, è il primo pezzo del... Il petto. Ah, ok. Il petto è la parte che conta, o la spalla. O la spalla. Ti tuffi, ti lanci. Sì, ti butti all'ora. Ed è un po' il mio marchio di fabbrica, perché... Arrivi in volo tu. A me piace, cioè nel senso, diciamo che rubi, vai a rubare questo centesimo o questo millesimo e ti fa la differenza. Cioè io sono andato sotto i 10 secondi di un centesimo, perché mi sono buttato. Sì. Sono andato in finale mondiali per un millesimo, perché mi sono buttato. Abbiamo vinto la staffetta per un centesimo. Perché sei buttato. E loro e i miei compagni mi hanno sempre preso in giro. Sì. Cioè magari un giorno mi ricordo che avevamo fatto un po', sai, il raduno ci si annoia e un po' ognuno imitava i comportamenti. Lo stile dell'altro. Facendo un po' la caricatura. Tu eri il tuffatore. E io. E mi hanno sempre preso in giro appena ho tagliato il traguardo le ho lette di ogni. Avete visto? Mentre le pesi in giro e me lo vedi. Prendete esempio invece. Tra l'altro bellissima che è la reazione alla fine che eri tutto super commosso anche tu. Parlando di compagni, Samuel Ceccarelli ha battuto Marcel Jacobs nei 60 metri di due millesimi. Potrebbe essere un nuovo nome che comporrà la staffetta? Beh, sicuramente un nuovo nome che ha scritto una pagina di storia molto importante del nostro sport anche insieme a Marcel perché hanno fatto una doppietta stratosferica. Quindi ci tengo, glielo ho già fatti, ma ci tengo a fare i complimenti a tutti e due. E poi la staffetta non è solo lui. Adesso sicuramente lui è un nome al quale non si può non pensare a una staffetta senza di lui ma siamo un gruppo pieno di 10 atleti che sono tanto amici ma allo stesso tempo rivali e quindi dovremmo lottare per 4 posti. Amici, ma quando uno ti batte il tuo record, Rosicky? Allora, il record no. Se fai la gara e perdi con lui, sì. Il record io sinceramente... Ah, non ti interessa? Però non è la roba che rimane più di tutte forse, più di una medaglia, il record. Cioè, finché il più veloce sei tu... No. No, la medaglia. Ah, pensavo fosse quello. Il record è sicuro qualcuno arriva a ritrovare. Qualcuno te lo batterà. La medaglia non te la tolgo. E che rapporto hai tu con la frase l'importante è partecipare? Sempre odiata. Eh, vero? No, però l'ho... Sempre odiata perché non l'ho capita. Ah. Cioè, allora, alle Olimpiadi... Sì. È il motto, no? Certo. E io ho sempre detto la frase dei perdenti perché l'importante è vincere. Certo. E invece quando ero lì ho capito, siccome arrivavo da una grossa delusione, che l'importante... Essere arrivati lì... Non è essere arrivato come esserci arrivato. Cioè, se ci arrivi perché non t'alleni, sei un po' così, arrivi lì e vai male, non è che l'importante è aver partecipato. Però se per un anno intero, tutti i giorni, sei sul pezzo, non lasci nulla al caso e dai tutto te stesso e poi non ce la fai, però, secondo me, quella è una cosa più importante. E mi è servita, dopo la delusione dei cento metri, ritrovare, tra virgolette, un po' la testa per correre... E rimetterti... E rimetterti in carrizzato. Anche la pizza mi ha aiutato in quello. La pizza? Ah, pensavo di no. Non appesantisce? La pizza appesantisce. Penso che adesso il mio nutrizionista si strafferebbe... Si sta buttando giù dal balcone. però tu hai mangiato pizza. Però alle Olimpiadi ho mangiato solo riso in bianco e pollo per due settimane, non ce la facevo più e quindi dopo i cento metri ho detto basta, mangio solo pizza e bevo bibite. E per una settimana ho fatto quello e poi ho fatto la miglior gara della mia vita. Un bellissimo messaggio di sport. Un bellissimo messaggio.